Quanto si guadagna tenendo un canale YouTube? Ciao e benvenuto nel video. Oggi ti parlerò di quanto puoi guadagnare tenendo un canale YouTube. YouTube paga per ogni mille visualizzazioni dai 25 centesimi fino ai 4 dollari. Questo dipende dalle aste che le pubblicità fanno per essere presenti nel tuo video. Faccio un esempio di un video qualsiasi. Prendo per esempio questo video. Al caricamento del video si spunta ad una pubblicità di 5 secondi. Dove comunque non puoi far salzare. E si carica successivamente il video. Quindi YouTube in genere incassi dalla pubblicità che a stavolta la gira ai proprietari del canale. A quelli che hanno creato il contenuto. E ripeto, gira dai 25 centesimi fino ai 4 dollari. Tutto dipende dalle pubblicità che vogliono essere presenti nei tuoi video. E quindi scattolisce un'asta al rialzo. A chi vuole pagare di più diciamo che ha la priorità. Infatti io diciamo che in queste due settimane io ho generato 2300 visualizzazioni. E mi stima infatti che io guadagno dai 51 centesimi fino agli 8 euro al mese. Soldi che comunque io ancora non incasso. Perché comunque come diciamo per poter monetizzare su YouTube mi occorrerebbero mille iscritti al canale. E mi occorrerebbero anche 4000 ore di visualizzazioni. Io attualmente sono a 44 iscritti e una trentina di ore di visualizzazioni. A trenta ore di visualizzazioni. Che comunque ripeto, essendo due settimane che ho aperto il canale sono comunque assai. Per questo video è tutto. Vi saluto. Alla prossima video. Cliccate mi piace e commentate. E iscrivetevi al canale. Grazie. Grazie.